danziamo la vita e lo possiamo fare in sala a teatro ma in questo periodo è un po difficile oppure come hanno fatto i concorrenti del nostro concorso alla riaperta cercando altri spazi spazi alternativi andiamoli a vedere la vita e lo possiamo fare in sala a teatro la vita e lo possiamo fare in sala a teatro la vita e lo possiamo fare in sala a teatro la vita e lo possiamo fare in sala a teatro 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti